Noi dobbiamo vedere a questi prossimi mesi come i mesi della ripartenza, del rilancio. La ripartenza significa emissione di liquidità che vadano direttamente alle imprese per poter assestare le loro situazioni e poter riprendere a lavorare e investire come si deve. Naturalmente questo passa dal mesi, proprio per questo finanziamenti che arrivano dall'Europa e io invito altre forze politiche a superare un po' questa diffidenza che si riversano poi nella liquidità che possiamo dare alle nostre imprese. Per il futuro una centralità dei temi del commercio e del turismo solo attraverso la ripresa delle attività, degli esercizi commerciali e la ripresa di una vocazione e una capacità d'attrazione in Toscana del turismo potrà rimettere in moto la nostra economia. Direttore, oggi il primo incontro con uno dei candidati alla poltrona di governatore della Toscana. Ecco, si chiede al centro ovviamente l'immissione di nuova liquidità e cos'altro? Per Confcommercio Pistole e Pato è importante questo momento perché il cambio del governo regionale determina per noi la necessità di mettere in evidenza i bisogni delle aziende. Sono due, il primo è l'emergenza post-Covid, le aziende hanno bisogno di sostegno a frondo perduto e liquidità per poter passare questa estate, quest'autunno che saranno violentissimi per il sostegno delle attività. La preoccupazione è che le aziende con volumi d'affari che sono del 40-50% più bassi rispetto all'epoca pre-Covid non potranno durare molto, quindi hanno bisogno di un grande sostegno, di far sì che i costi di gestione vengano ridotti in modo tale da prepararsi per quelle fasi di promozione successiva che ci potranno riportare verso la normalità. E poi abbiamo bisogno di un grande cambio di passo, il commercio, il turismo, il terziario hanno garantito in Toscana occupazione e sviluppo per tanti anni, oggi hanno bisogno di politiche nuove che le metta al centro di iniziative di promozione e valorizzazione mai conosciute in passato.